I lavori del Consiglio, via libera al piano della riserva naturale del San Vicino e Canfaito, rinviate in commissione la proposta di modifica alla disciplina della via, la valutazione di impatto ambientale. Seconda edizione della Master Class con la grande violinista Yuzuko Rigomè. 16 studenti provenienti da tutto il mondo partecipano a lezioni itineranti con musicisti di fama internazionale. L'agenda del Consiglio ad Ancona, il 22 novembre, convegno su etica e senso di responsabilità nella professione. Il 26 fa tappa macerata al cuore delle donne, progetto sulla prevenzione delle cardiopatie femminile, promosso dalla Commissione Pare Opportunità. Ben ritrovati con l'informazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche. In apertura i lavori del Consiglio regionale che nel corso della seduta di questa settimana ha approvato il piano della riserva naturale dei Monti San Vicino e Canfaito, rinviata in Commissione la proposta di modifica alla disciplina di via, la valutazione di impatto ambientale. I dettagli nel servizio di Laura Volponi. Un alto piano che si estende per oltre 1000 ettari alle pendici di un massiccio calcario, tra i comuni di San Severino Marche e Apiro. È la riserva naturale regionale del Monte San Vicino e Canfaito, istituita nel 2009, il cui piano di regolamento è stato discusso in aula questa settimana. Il documento di oltre 230 pagine, approvata a larga maggioranza, è stato presentato dai relatori Luca Marconi, Udc. e Massimo Binci, SEL. Spazia dalle norme sull'attività agricola alla tutela delle acque fino al sostegno delle attività economiche. Torna invece in quarta Commissione Ambiente per un ulteriore esame la proposta di legge sulla procedura di via, valutazione impatto ambientale. La legge, un solo articolo, recepisce le normative comunitarie e prevede la procedura di via anche per le opere provvisorie, di durata certa e limitata nel tempo, non oltre 180 giorni. Il rinvio, suggerito dalla consigliera Elisabetta Foschi, Forza Italia, è stato accolto da entrambi i relatori, Giancarli, Partito Democratico e Silvetti, Forza Italia. In chiusura di seduta, via libera alla risoluzione sull'Early Warning, allarme rapido sulla verifica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, a firma della Sesta Commissione Politiche Comunitarie. Provengono a tutto il mondo i 16 studenti che partecipano alla seconda edizione della Master Class con la violinista giapponese Yuzuko Rigomè. Il corso di alto perfezionamento, patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche, prevede una serie di eventi itineranti con artisti di fama internazionale nei comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Osimo e Polverigi. L'iniziativa, che terminerà il 23 novembre, è organizzata dall'Associazione Onlus Resi d'Art. Ai nostri microfoni il Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, e la violinista Yuzuko Origomè. Siamo alla seconda edizione, l'anno scorso si può dire che era sperimentale, quest'anno viene consolidata un'esperienza straordinaria, non soltanto per il valore dell'artista, Origomè, lo spettiamo per la seconda annualità qui nelle Marche, e quest'anno peraltro la presenza importante del maestro Offriend, che arricchisce ancora di più questa straordinaria iniziativa, che propone nel nostro territorio una forma di mecenatismo diffuso, secondo me molto originale, molto intelligente. Questo è il secondo anno che facciamo questo progetto con Resi d'Art, cioè dove sia gli artisti che gli studenti sono ospitati dalle famiglie. La musica diventa vita, i ragazzi vivono con le famiglie, le famiglie vivono l'esperienza quotidiana dei ragazzi, ed è un'esperienza che si arricchisce dal punto di vista umano, sentimentale e tecnico. Prima di chiudere vediamo insieme l'agenda del Consiglio. Etica e senso della responsabilità nella professione è il tema del convegno che si terrà sabato 22 novembre alle 9.30 al Cinema Teatro Italia di Ancona. L'iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale, è organizzata dall'Istituto Grafologico Girolamo Moretti e dalla rivista Scrittura. Da Ancona ci spostiamo a Macerata, dove mercoledì 26 novembre in programma alle 15.30 nella Sara Giovannetti di Palazzo degli Studi il quarto appuntamento con il Cuore delle Donne, il progetto della Commissione regionale Pare Opportunità sulla diagnosi e prevenzione delle cardiopatie femminili. Bene, per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.